Dopo l'introduzione del Jobs Act, il precariato è diventato uno dei temi caldi della politica italiana. Bastano minime variazioni statistiche per suscitare l'entusiasmo dei sostenitori della riforma o quello dei suoi avversari, e perfino la definizione di lavoro precario è diventata oggetto di sottili distinguo. Ma quelli che vivono in questa condizione sanno bene di che cosa si tratta e per ascoltare le loro voci è nata Radio Precaria, una iniziativa dell'Istituto Gramsci di Torino con la rete italiana di cultura popolare. Il lavoro è cambiato, non è soltanto una questione di restringimento della base produttiva che sicuramente l'innovazione tecnologica sta portando con sé, ma anche proprio di morte di certe professioni che purtroppo stanno evolvendo in un modo o nell'altro, ma cacciando fuori con una velocità tremenda persone che avevano un ruolo sociale, una consolidata professionalità, un posto nel mercato del lavoro e che adesso rischiano di non averlo più. E peraltro sono cambiati i modelli contrattuali e quindi si tende a stirare al massimo la flessibilità creando precarizzazione, incertezza, mancanza di prospettive future. Ci fermiamo poco a riflettere su questo, poco su quello che troveranno le generazioni future e una trasmissione come Radio Precaria dentro una web radio oggi ha un senso per incontrare queste persone, per capire quali sono le tipologie di lavoro. Una volta non era così, una volta si aveva quasi tutto uno stesso orario, uno stesso contratto, uno stesso modo, ora ci sono mille contratti, mille orari, mille modi di percepire il lavoro. Il primo appuntamento, mercoledì 26 ottobre, è con il precariato nel mondo del giornalismo. L'avvento del web ha profondamente modificato il mondo dell'informazione, i giornali vendono sempre meno copie, anche le radio e le televisioni sentono la concorrenza, diminuisce il numero dei giornalisti professionisti regolarmente assunti e tutelati da un contratto, cresce a dismisura il numero dei precari che lavorano tantissimo per un tozzo di pane. Il problema è loro, ma non soltanto loro. Anche il pubblico deve sapere che un precario per sua natura è più facilmente ricattabile e quindi meno libero. Mercoledì 9 novembre sarà la volta degli esclusi di chi non ha più un lavoro fisso a causa di processi di ristrutturazione aziendale o perché l'innovazione tecnologica ha reso inutili le sue competenze. Mercoledì 23 novembre toccherà invece agli inventori, a coloro che hanno saputo trovare strade nuove e spesso soddisfacenti in un mercato del lavoro sempre più difficile. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico presso il Polo del Novecento in via del Carmine 14 a Torino tra le 19 e le 20. Le conversazioni saranno disponibili in podcast su Tradi Radio, web radio raggiungibile all'indirizzo www.reteitalianaculturapopolare.org.